Essere assicuratore e leader non significa solo avere un ufficio proprio e un reddito più alto rispetto ad un consulente o un produttore, il che tra l'altro è tutto da vedere. Significa anche avere un atteggiamento propositivo rispetto ai problemi. Il vero leader li affronta come sfide, come situazioni da risolvere, non come ostacoli insormontabili. C'è poi un'altra differenza radicale tra un vero assicuratore e un semplice produttore. Chi è davvero leader ha una visione ampia e guarda all'interesse del gruppo piuttosto che a quello strettamente personale, anche perché sa che il proprio risultato è collegato a quello del team. Il percorso assicuratore leader nasce proprio con l'intenzione di aiutare gli agenti in difficoltà a sviluppare un mindset vincente. Fissa quindi una call strategica per iniziare il tuo percorso.